Mara Adriani, ex Geffina, al reality nell'edizione andata in onda tra ottobre del 2009 e marzo del 2010. A partorito. La bella romana 34enne annuncia sul social la nascita del bebè e rivela pure come si chiama il figlio, Abramo. L'Adriani aveva rivelato di essere incinta sempre via Instagram. A maggio scorso aveva condiviso una foto del pancione alla ventottesima settimana di gestazione e aveva scritto, non vedo l'ora. Non aveva però svelato né il sesso né il nome del piccolo in arrivo. Ora felicissima della cicogna pubblica uno scatto in cui ha fotografato il neonato e lo accompagna con poche tenere parole, my sweet baby, incredibile love in love Abramo. Mara ha deciso di abbandonare Londra dove fino a poco tempo fa si era trasferita in cerca di una nuova vita. Il compagno, Fabio, con cui ha costruito la sua nuova famiglia, l'ha convinta a tornare a Roma. Dove ci sono pure i suoi affetti più cari. È insieme a loro che assapora la gioia di essere finalmente mamma. Vive ore di incredibile felicità, Abramo le ha regalato un sogno tutto da vivere. Grazie a tutti.